La street art è una forma d'arte imprevista e impertinente, almeno secondo il gruppo di ragazzi che sta cercando di ridare vita alle periferie italiane, valorizzando la creatività dei suoi abitanti. Ecco cosa fa Inward, un progetto nato da Luca Borriello. A partire da Napoli Est, quartiere Ponticelli, una tra le periferie più difficili e complesse d'Italia. Un territorio giovane con il più alto tasso di dispersione scolastica e disoccupazione, immerso in un contesto dove la criminalità minaccia le prospettive di sviluppo individuale e dell'intera comunità. E a partire da qui che una rete di organizzazioni sociali e culturali sta cercando di cambiare il destino degli abitanti, grazie all'adozione del Parco Merola, già ribattezzato Parco dei Murales, nel tentativo di ridare speranza all'intero quartiere, con un progetto di riqualificazione artistica e rigenerazione sociale basato sull'arte di strada. Nel Parco di Napoli Est sono state realizzate sei delle otto opere di street art previste, su altrettante facciate di edifici e palazzi. Dietro ogni opera c'è un lavoro di integrazione e di condivisione, che vede la partecipazione dei residenti, soprattutto dei più piccoli, che fanno della strada il loro parco giochi. Ma l'impegno di Inward non si limita al territorio di Napoli. Tra le opere di sensibilizzazione più famose, infatti, ci sono il murale di Palermo dedicato a Falcone e Borsellino, che hanno sacrificato la loro vita contro la mafia, o quello realizzato a Reggio Calabria dal titolo La madre di Argillà, contro ogni forma di razzismo. Jory Agoc è l'autore di diverse opere importanti a Napoli, dal murale raffigurante l'idolo calcistico Diego Armando Maradona e quello di San Gennaro. L'opera Ponticelli, dal titolo Aelle, la zingarella, affronta invece il tema del razzismo, ed è stata realizzata nei pressi di un luogo da dove i rom furono cacciati malamente tempo fa. L'intento è quello di avviare un riscatto socioculturale, incentrato su temi attuali, come la tutela e la cura delle proprie radici e del proprio quartiere. Ognuno contribuisce a ricercare i temi rappresentati dagli artisti sulle grandi facciate, imparando non solo a cooperare per un valore comune, ma diventando in contemporanea cooperatori di un progetto sociale ed artistico.